Salve amici, benvenuti a una nuova sfida. Oggi i nostri amici avranno vita dura. Vediamo come affronteranno le sfide che abbiamo preparato per l'ora. Andiamo a dare un'occhiata. Non sarà di certo facile. Evviva, una nuova sfida. Nicole, vuoi iniziare tu? Sì, certo, grazie Mike. Ho una gomma uba buba dolce e io la adoro. Wow, è così lunga. Che bella. Ma dove viene questo uba buba? È questo il bello. È così buona. Oh, guarda. Cosa? I capelli. Oh, Nicole sembra non vedere cosa le spetta là. E sta per ingoiare i capelli. È stato fantastico. Ah, cos'è? Ha un sapore disgustoso. Non dirvi che sono i capelli di qualcuno. È disgustoso. Devo togliere la gomma. Non riesco. Ah! Oh mio Dio. Qualcuno mi tolga questa gomma. Scusa Mike. Toccata. Ah, questa sì che è una buona notizia. Solo che mangiare i nudolini con le bacchette richiede tanto tempo. Meglio così. È una forchetta del trapano. È più facile. È divertente. Sono un genio. Oh, sembra che siano molto piccati. Non aveva paura, Mike. Ecco l'acquario. Ti aiuterà. Oh, grazie. Oh, che sollievo. Solo che credo di avere qualcosa in mucca. È il besciolino rosso. Dobbiamo rivederlo subito là. Oh, Mike. Guarda che è successo. Ha le nostre labbra. Le miso rosa e i tuoi blu. Bello. Wow. Un orsetto gommoso blu. E io ho un oro. Evviva. Non ho mai visto un orso gommoso così grande prima d'ora. Wow. C'è anche una macchinina. Penso di avere un'idea graziosa. So com'è. Sierla fuori. Sdrai si malato. Dobbiamo fare subito un'operazione alla tua pancia. Ok. Taglio. E adesso posso tirare fuori. Wow. Ce l'ho fatta. Evviva. Kendri. Sì. Mike gioca con il suo giocatore. Io mangio il sorso. No. Oh. Non l'ho ancora assaggiato. Mike. Dai. Io sto morendo di fame. Mamma. Eh, va bene. Però mangio quello che hai tu. Ah. È vero. Non ci sta. Non ci sta. E come faccio? Dai, su. Ah. No. No. Perché? Stai bene? Sì, però c'ho il latte addosso. Però se avrei stato il biscotto posso assaggiarlo finalmente. Adoro. E adesso lo finisco in fretta. Buono. E l'ultimo pizzettino. Ho finito. Cavolo. Cavolo. Oh, ragazzo. Oh, ragazzo. Ok. La Nutella. Così grande. Ma io ho il formaggio puzzolente. È disgustoso. Mi dispiace, amici. Però non voglio provarlo. No, no, David. Dai, Mike. Ok. Cavolo. Cosa vuoi? Ah, lo so. Per evitare il guai? Mi serve una tutta speciale. Guanti. Occhiali. E la molletta per il naso. Così meglio. Bravo, Mike. E adesso? Dai, proviamo. Cavolo. Sto per vomitare. Fratello, ce la puoi fare? Adesso, così va molto meglio. Però non penso che ci riuscirà. Non posso neanche guardare. Non aprire gli occhi, Nicole. È terribile. E' viva, ce l'hai fatta. Sì, è stata dura. E adesso con te. Finalmente posso provare la Nutella rosa. È così dolce. C'è un motivo per cui si dice. È buono delle carse le dita. Questo sapore vuole essere gustato ancora e ancora. Ah, bene. Ne ho ancora un secchio intero. È esiderante. Fantastico. Oh, credo che il secchio non si stacchi. Oh, Mike, aiutami. Gira più forte, per favore. Ah! Oh. La libertà. Le nostre orecchie. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Io ho la fanta alla ciliegia. E io ho un'intera montagna di pancake mertile. Ah, questo è divertente. Dovrò provare i pancake. Wow, sono così... morbidi. È dolci. Mi dispiace, ma è così buono che non riesco a fermarmi. Nicole? Vedi? Mangio. Vuoi vedere un trucco? Quale? Oh! È stato divertente. Quando vedo l'ora di provare la mia fanta alla ciliegia? Perché non... Cosa? Ma come? Dai! Mike, mi dai una mano? Ok. Certo. Dammela. Ah! Ve l'hai versata! È in faccia! Scusa, dove volevo... Ah, è il tuo collo! Cosa? No, è tutto rosa! È il tuo è blu! Ah! Ok. Wow, un bel regalo. Sono totalmente d'accordo con te. Le patatine rose. È un sogno! Apriamo? Mmm, che bello! Buono! Sì, va bene. No, non è per te. È mio. Per favore, Mike! Aiutami! Dai! Ok, dammi la mano. Oh, guarda! Le mie labbra! Patatine, vabbè. Fortunata! Voglio provare anch'io la mia torta. Ah! Mi dai cake pop, per favore? Ok. Ok, una. Ah! Che male! Vabbè, ho un'idea. Per fare lo scherzo a Mike. Boom! Ah, che faccia che hai! Che ridere! Oh, la torta è veramente buona. Mi piace. Oh, man! Gustosa. Guarda, ho un tovagliolo per te. Grazie. Ho finito. Ah, Nicole! Non dirmi che la mia fase è evitata rosa. La tua è blu. Oh! È così divertente. Che belle cose. Fantastico! Vuoi fare uno scambio? Questa è una grande idea. Buon appetito, Mike. Grazie, Nicole. Il tuo frullato rosa è delizioso. Mi piace. Ma... Ma... Vabbè... Mike... Oh, che male! Però è un'idea. Posso mangiare tutte le caramelle così. Le proprie cose. La mia macchina! Sono blu! Oh-oh! E le mie sono rosa! Che spasso! Oh! Ma...